Una piacevole coda di San Valentino presso la cremeria al Duomo con una serata musical letteraria intitolata Ultimi Romantici. Siamo in compagnia di Claudio e Diana e del maestro Assolito. Una serata davvero particolare perché con la presentazione di questo libricino Ultimi Romantici che poi raccoglie i 30 anni della vostra gavetta riuscirete a allietare il pubblico con della musica napoletana, giusto Diana? Giusto, si è detto proprio bene, un racconto dei nostri primi 30 anni di attività che noi essendo musicisti amiamo abbinare proprio a serate anche musicali e quindi è questo racconto di Romantici perché noi ci dedichiamo ad un genere particolarissimo pieno di romanticismo, il classico napoletano e soprattutto noi dedichiamo ancora le serenate, quelle come si facevano una volta sotto al balcone dell'Amata col mandolino e quindi è venuto naturale chiamare questo libro così sperando che non siamo proprio gli ultimi insomma, che ce ne siano ancora. Claudio, vogliamo raccontare le tappe fondamentali della vostra gavetta? Sì, allora noi abbiamo iniziato, siamo grandi, siamo maturi, io dico siamo maturi, abbiamo iniziato alla fine degli anni 80, noi abbiamo iniziato con il piano bar tradizionale, quindi con la musica italiana e internazionale e poi a un certo punto c'è stato un evento che ha dato la svolta, che ci ha fatto innamorare dei classici napoletani ed iniziare questo bellissimo percorso, l'incontro con il maestro Roberto Murolo, abbiamo avuto la fortuna di suonare con lui durante un suo compleanno e lui ascoltandoci ci ha detto Siate ambasciatori della canzone napoletana del mondo. Lì abbiamo iniziato ad amare, a scoprire, ad imparare questo repertorio e da una prima serenata, noi eravamo lì dietro gli strumenti a suonare e a cantare, da una prima serenata che dedicammo a una coppia di innamorati, poi abbiamo imparato e scoperto il valore della posteggia napoletana. Claudio sarà alla chitarra, Diana la voce e Massimiliano al mandolino. Ecco, la dolcezza del mandolino è importante nelle musiche partenopee? Sì, sicuramente, ma poi c'è da dire che appunto parlando di romanticismo eccetera, il mandolino si sposa molto bene con la musica napoletana, con la poesia e con la musicalità proprio che esprime la canzone classica napoletana. Nadia, voi siete stati definiti gli ambasciatori della musica napoletana, quali canzoni verranno presentate questa sera? Guarda, questa sera partiremo proprio con la prima canzone che ti diceva Claudio, la prima serenata. La prima serenata è stato un brano che ci fu richiesto, proprio più o meno una trenta anni fa. Era uscita da poco ed è con me, di Roberto Muro Remia Martini, che credo conoscano tutti. E poi spazieremo nei classici più conosciuti, tipo Reginella, Era de Maggio, qualche Tarantella non può mancare. E poi qualcuno dei nostri video, perché noi è una passione che abbiamo per i video e il repertorio classico napoletano è talmente ricco di temi da proporre che viene quasi naturale prendere un brano e adattarlo ad un tema che ci è particolarmente a cuore. E quindi abbiamo dedicato molti video a temi sociali. Il primo è stato Terra Mia, dedicato alla Terra dei Fuochi, per arrivare all'ultimo che ha girato per noi il regista Duccio Forzano, il regista di Sanremo di quest'anno. Ha fatto una versione meravigliosa di Osurdata e Innamorata, che abbiamo dedicato alla pace e passando poi anche per il femminicidio. Quindi è una serata in cui parleremo, suoneremo e vedremo anche video. Insomma c'è un po' di tutto. Claudio, in ultimi romantici, chi ha tradotto tutta la vostra gavetta è il giornalista Coppola, ma c'è ancora un'importante collaborazione. Sì, allora noi ringraziamo e salutiamo il giornalista Luigi Coppola, napoletano, che vive in Sardegna, che si è interessato a noi e ci ha voluto scrivere. Noi siamo contentissimi questa nostra biografia, però c'è un'altra persona che noi ci onoriamo e che ecco di essere, di avere questa amicizia con Tony Esposito, che ha scritto la prefazione e di cui ci sono diverse collaborazioni con lui. Lui ha arrangiato un inedito, una canzone nuova che è presente nel disco Napoli era ora, che porta lo stesso nome dello spettacolo che portiamo in giro. Napoli era ora, il brano si chiama Era ieri e poi ha arrangiato con noi anche Tamuria Tanera e poi questo video che è uscito, che trovate su YouTube, canzone appassionata. Abbiamo fatto questa cover di canzone appassionata in cui c'è anche lui nel video e suona le percussioni, ovviamente. E chiediamo a Massimiliano quali saranno le altre tappe di questi vostri incontri musicali? Beh, sicuramente i prossimi saranno il 24 e il 3, credo, giusto Diana? L'8 e poi l'8 marzo, sì. E insomma saranno altre belle sorprese che soprattutto per chi vuole ascoltare della buona musica classica napoletana, diciamo, e sono invitati già da ora a venire. Quanto coinvolge, Nadia, la musica napoletana e il pubblico? Magari non soltanto del sud. Non soltanto del sud e non soltanto di una certa, uno può pensare magari, sai, sono gli anziani o persone adulte di una certa età. Invece è un repertorio veramente trasversale, che abbraccia persone di tutte le età e persone di ogni luogo, ma veramente di ogni luogo. Noi lo amiamo raccontare perché è facile proporre la canzone classica napoletana ai giapponesi, ai cinesi, ai tedeschi, si sa che la amano. Però una volta ci è capitato di essere invitati a suonare per un gruppo di israeliani e noi ci siamo per primi meravigliati per il fatto che conoscessero tutti questi brani ed è stato bellissimo. Quindi è un repertorio che ci sorprende sempre per l'amore che raccoglie ovunque, ovunque. E per chi volesse acquistare questo libro così bello, corredato dal vostro cd, come può fare? Nel libro sì c'è anche il cd, come dicevi, in cui ha suonato anche Tony e non solo, Gio Amoruso, insomma tantissimi altri validissimi musicisti. E lo possono trovare al nostro sito www.claudiediana.it oppure per i ragazzi social alle pagine facebook claudiediana.it, insomma posteggia napoletana. Possono trovare un po' di noi, conoscerci un po' meglio al di là del libro. Sarà un piacere diventare amici. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie.